Il weekend appena trascorso è stato ricco di avvenimenti per l'associazione Marathon Club Shaka. Sabato, quattro atleti sono stati premiati presso il resort Saracen di Isola delle Femmine per la partecipazione al primo campionato podistico Super Prestige a CSI Sicilia Occidentale 2017. Gli atleti premiati sono stati Felice Barone, classificatosi primo nelle categorie SM60, Calogero Lauretta, classificatosi quinto nella categoria SM55, Vito Bono, classificatosi tredicesimo nella categoria SM45, Luigi Scandaglia Martino, classificatosi trentacinquesimo nella categoria SM50. Vito Colletti, invece, ieri ha partecipato ad una gara oltre i confini regionali. Ha preso parte, infatti, alla sesta edizione della Mugello Run all'interno dell'autodromo internazionale del Mugello, gara podistica competitiva internazionale, individuale, maschile e femminile. Sempre ieri, 18 atleti della squadra saccense hanno partecipato alla prima prova del Grand Prix di Corsa 2018 Circuito Brillante, a Piazza Armerina. Il titolo, tra le società maschili, è andato all'Universitas Palermo, mentre al femminile vittoria per la Trinacre Palermo. Il miglior tempo realizzato dagli atleti di Sciacca è stato quello di Tony Puccio, mentre i premiati sono stati il presidente Alberto Fieramosca e Luana Russo, e entrambi secondi nelle rispettive categorie di appartenenza. Prossimo appuntamento il 4 febbraio da Cireale, con gli atleti che correranno a fianco dei carri allegorici del Carnevale Acese. E passiamo all'Hockey su carrozzina elettrica, sconfitta casalinga per i Leoni Sicani, ma è in partita contro i forti Scherks Monza. 3-9 il risultato finale, al termine di un match mai in discussione. Per i gialloverdi la stagione è tutta in salita, e servirà grande determinazione questa volta per San Filippo e compagni per raggiungere la quota salvezza nel campionato di A1-Girone B. Occorre tornare alla vittoria nel minorte impossibile. E chiudiamo con la scherma. Eccezionale risultato per Siria mantegnere il discobolo Sciacca, che con la nazionale italiana ha centrato il terzo posto nel campionato del mondo di sciabola femminile prova a squadre. La manifestazione si è svolta a Segovia, in Spagna, nei pressi di Madrid, e ha visto in pedana le migliori atlete del panorama internazionale under 20. Per il discobolo e per Mantegna si tratta della prima medaglia di questo livello e di questa importanza. Grazie.